ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video questo è un video un po particolare perché è particolare l'epoca storica in cui siamo la maggior parte di noi sono chiusi in casa qualcuno sta ancora andando al lavoro in questo momento è in atto una pandemia dovuta a questo nuovo virus il coronavirus ho deciso quindi di fare questo video per dare una mano a tutte le persone che sono chiuse in casa come me che sono state obbligate a cambiare le proprie abitudini e come affrontare al meglio questo percorso consiglio numero uno vestiti e lavati molti di noi quando sono a casa magari la domenica o quando si è ammalati finiscono per avere un atteggiamento trasandato per rimanere in pigiama tutto il giorno e ovviamente comportarsi come quando si sta a casa con vestiti comodi magari non ci si lava spesso i capelli magari non ci si trucca il trucco comunque è una cosa limitata e relativa alle persone che si truccano quindi quello che dico non è di stare a casa in tagliore con i tacchi ma sicuramente alzarsi la mattina e prepararsi per affrontare la giornata è un'ottima cosa non dimenticate che il corpo comunica dei messaggi alla nostra mente la mente il corpo sono un sistema unico ma si è portati a pensare che ci sia sempre la supremazia della mente sul corpo che quindi bisogna avere una motivazione bisogna avere una spinta interiore per fare certe cose mentre invece anche solo l'atto di prepararsi per la giornata fettinarsi lavarsi e cambiarsi vestiti ogni giorno può essere un ottimo messaggio per la nostra mente per darci una continuità di normalità nella nostra giornata e prenderci cura di noi consiglio numero due dati degli orari e scandisci ritmi della tua giornata il fatto che le abitudini siano cambiate non vuol dire che dobbiamo sentirci completamente persi molte persone sono abituate ad avere degli orari scanditi da qualcun altro persone che magari vanno in ufficio che sono abituate tutti i giorni a fare un viaggio da casa all'ufficio allenarsi a una certa ora andare in palestra andare a fare il pranzo sempre nello stesso posto questa è una buona occasione per capire quanto noi siamo in grado di gestire il nostro tempo e le nostre risorse quindi prendete un bel diario come quello che ho io o un calendario meglio un diario però e la mattina come prima cosa assegnate quello che volete fare durante la vostra giornata alcune persone continuano a fare smart working altre persone invece che magari hanno un'attività come un negozio sono state costrette a chiudere per un periodo di tempo si trovano senza saper bene cosa fare ma è molto importante imparare ed esercitarsi prendere questa come un'occasione per allenarsi e imparare a gestire e ottimizzare il nostro tempo io per esempio scandisco di solito sia delle cose da fare e sia il tempo da impiegare per portarle a termine perché questo perché avendo tutta la giornata a disposizione per me è un po più normale perché io sono abituata a lavorare a casa e sono abituata ad amministrare il mio lavoro ma comunque una situazione straordinaria anche per me quindi il fatto di avere degli orari e dei tempi entro i quali portare a termine alcune attività è di aiuto perché altrimenti avendo tutta la giornata a disposizione nessuno che ci dice che cosa fare finiamo facilmente per distrarci per passare da una cosa a un'altra e finire la giornata senza magari aver concluso niente quindi consiglio numero 2 gestisci il tuo tempo e le tue risorse e le cose da fare durante la giornata consiglio numero 3 tieniti in contatto con gli altri è vero che siamo divisi ma siamo anche in una situazione nella quale siamo più uniti del solito perché tutte le persone stanno vivendo una stessa realtà chi lavora chi non lavora chi si allena chi non si allena tutti siamo a conoscenza della situazione tutti stiamo condividendo un momento storico importante che ci mette in qualche modo nella stessa condizione il virus ovviamente non fa distinzione di sesso di contesto sociale di quanti soldi abbiamo in banca o di che lavoro facciamo quindi paradossalmente in questo momento in cui siamo più divisi del solito perché non possiamo vederci in palestra non possiamo fare l'aperitivo non possiamo andarci a fare una cena fuori siamo ancora più uniti quindi condividiamo questa cosa in modo però costruttivo senza allagnarci gli uni con gli altri tanto siamo tutti nella stessa barca quindi mantenete i contatti sentitevi per telefono con i vostri familiari con i vostri amici fate delle videochiamate cercate forme di comunicazione alternative consiglio numero 4 torniamo alla gestione del tempo sfruttiamo il nostro tempo al meglio se è vero che ci sono tante cose che non possiamo fare questa è proprio le situazioni in cui invece ci troviamo ad avere la possibilità di fare tante cose che solitamente non abbiamo tempo di fare o non decidiamo mai qual è il momento giusto sì sicuramente non possiamo andare a fare il viaggio molte persone magari dovranno andare in viaggio sono stati cancellati voli non possiamo andare a fare la gita fuori porta non possiamo andare al parco e non possiamo andare a festeggiare la laurea o qualsiasi altro evento tante tante attività sono state sospese ed è giusto che sia così ma ci sono tante altre cose che magari solitamente appunto rimandiamo non facciamo e che adesso abbiamo il tempo di fare sfruttiamolo questo tempo ci sono tantissimi corsi online per esempio anche corsi brevi possiamo decidere di imparare una nuova lingua possiamo decidere di per esempio leggere delle cose che avremmo sempre voluto leggere non abbiamo mai tagliato il tempo necessario possiamo dedicarci ad attività creative soprattutto le persone che sono in casa con i bambini e che può essere stressante ovviamente perché i bambini comunque si stressano a stare dentro quattro mura e noi anche ovviamente cercate di fare qualcosa di buono insieme fare qualcosa di creativo può essere dipingere può essere cucinare può essere magari prendere delle cose usate che abbiamo dentro casa che non utilizziamo da tanto e creare delle piccole opere di bricolage ci sono tante cose che si possono fare spaziate con la fantasia e pensate che è una buona occasione di condivisione con le persone con le quali siete in casa che solitamente magari non sfruttiamo consiglio numero 5 fai attività fisica è vero siamo in casa ed è complicato soprattutto per chi è abituato ad allenarsi in palestra ma ricordiamoci che siamo in un'epoca fortunata perché adesso basta accendere il computer e a casa possiamo avere dell'attrezzatura molto utile spendendo poco e in pochissimo tempo manubri componibili kettlebell elastici sbarra per le trazioni poco tempo fa ho fatto un video su come imparare a fare le trazioni questo è il momento giusto prendete una sbarra per le trazioni non serve fare buchi non serve installazione sono delle semplici sbarre a pressione o a incastro e imparate a fare le trazioni ci sono tante cose che si possono fare in quattro mura nel mio canale c'è una playlist appositamente dedicata ai workout a corpo libero sul mio profilo instagram ci sono tantissime infografiche per un periodo addirittura ho fatto solo infografiche di allenamenti in due metri quadri quindi cose veramente super fattibili quindi non dimentichiamo l'attività fisica perché serve a tenere in salute la mente serve a tenere in salute il corpo serve a far passare il tempo anche e serve a mantenere una costanza nella nostra normalità consiglio numero 6 cerca di mangiare sano lo so che stare dentro casa può essere stressante lo so che se abbiamo delle scorte di cibo da qualche parte la prima tendenza è quella quando ci si annoia quando si è stressati è quella di attaccarsi al barattolo di qualsiasi cosa di biscotti di arachidi di burro di mandorle ma cerchiamo di mantenere un'alimentazione sana perché non dimentichiamoci che questo periodo finirà e che poi dobbiamo ecco lavorare per il nostro io futuro c'è una versione di voi nel futuro che è assolutamente dipendente dalle nostre azioni del presente quindi cerchiamo di prenderci cura di noi cerchiamo di pensare a che cosa ci rimarrà di questo periodo e quindi manteniamo un'alimentazione sana se ci stiamo muovendo meno magari mangiamo un po meno se mangiare meno è difficile magari possiamo semplicemente saltare uno spuntino o comunque soprattutto la cosa più importante sarebbe cercare di imparare ad ascoltare il senso della fame sempre riguardo all'aspetto di mangiare sano non dimentichiamoci che rimanere in salute dipende da una serie di fattori strettamente correlati al nostro stile di vita ho visto delle immagini in questi giorni di persone che prima di chiudersi in quarantena facevano la fila avanti alla tabaccheria ora so che i fumatori hanno ovviamente un rapporto strettamente correlato con il proprio stato emotivo nei confronti del fumo e che una situazione come questa può essere super stressante e non vorrebbero altro di chiudersi in casa con la propria scorta di sigarette e potenzialmente fumare più del solito ma questa è un'ottima occasione per riflettere sull'importanza della nostra salute ci sono delle cose che non possono essere evitate un virus sì certo lo si può mantenere a distanza si possono adottare dei comportamenti che ci permettano di interrompere il contagio come quello che stiamo facendo tutti noi in questo momento ma non dimentichiamoci che non possiamo ovviamente controllare alcune malattie non possiamo controllare un virus o un batterio però possiamo avere il controllo su tante cose del nostro stile di vita che impattano direttamente sulla nostra salute una di queste è il fumo una di queste è l'alimentazione una di queste è l'allenamento quindi insieme ad un'alimentazione sana cerchiamo di sfruttare questo momento per veramente riscoprire il valore della nostra salute l'importanza della nostra vita e cercare di fare delle scelte questo è il momento giusto per smettere di fumare ci sono tante persone in terapia intensiva in questo momento per cause purtroppo indipendenti dalla propria volontà cerchiamo di ricordarci che alcune persone che comunque il fumo ha un impatto diretto sulla nostra salute ed è strettamente correlato alla insorgenza di alcune patologie quindi finché possiamo finché è il nostro potere cerchiamo di rimanere in salute di prenderci cura di noi e degli altri ultimo consiglio questo è un po particolare e meno pratico degli altri impariamo a cogliere il valore dell'attesa tante persone che si rivolgono a me hanno problemi nella gestione del cibo nella gestione della fame nervosa nella gestione dei momenti in cui si è costretti per esempio a fermarsi dall'attività fisica a causa di un infortunio una cosa che può sembrare niente in realtà perché non è nulla che si faccia ma che è veramente super super importante è imparare ad attendere in alcuni momenti e in questo in particolare si è manifestato proprio nel modo più pratico e reale possibile l'unica cosa da fare è aspettare come in questo caso dobbiamo attendere affinché il tempo di incubazione del virus si sia esaurito e le persone in quarantena possano essere dichiarate sicure dobbiamo attendere che comunque questa situazione faccia il suo decorso dobbiamo attendere per evitare di incentivare il contagio e peggiorare la situazione imparare a capire il valore dell'attesa è una delle cose migliori che possiate fare nella vostra nel prendervi cura della vostra alimentazione nel prendervi cura di voi in generale molte persone riescono a interrompere il ciclo di fame nervosa di abbuffato eccetera semplicemente imparando ad aspettare e rallentare i tempi di reazione questo perché l'attesa ci permette di lasciare che alcuni processi mentali e fisici anche come per esempio il senso di fame e di sazietà si evolvano e trovino la loro soluzione senza che noi facciamo niente molto spesso la causa delle abbuffate o perlomeno non la causa dal punto di vista psicologico ma il motivo per cui alla fine nonostante magari non vogliamo finiamo per mangiare troppo eccetera è perché non siamo in grado di attendere non siamo in grado di rallentare e dilatare i tempi in poco tempo siamo in grado di mangiare molto cibo se non riusciamo ad aspettare quello il momento in cui cediamo a quel impulso mentre invece imparare il valore dell'attesa nella pratica meditativa come semplicemente in una pratica giornaliera del mettere in atto quello che facciamo è veramente molto molto importante quindi questo è un momento in cui purtroppo la cosa migliore che possiamo fare l'unica cosa che possiamo fare è aspettare cerchiamo di riflettere su questo aspetto e di capirne l'importanza non solamente in questo momento storico ma nella vita di tutti i giorni e rendiamoci conto che abbiamo tra virgolette la fortuna di poter vivere questo momento essere testimoni di questo momento non pensate che sia pazza lo so che non c'è niente di fortunato in un'economia che crolla in persone che stanno male e stanno in ospedale in persone che purtroppo sono rimaste vittime di questo virus ma la prima cosa che ho pensato quando è successo questo è stato la coincidenza del fatto che io e marco fossimo tornati da pochissimo dalla spalmas e molte persone ci hanno detto come battuta beh si è tornati proprio nel momento giusto no che sfiga mentre invece per quel che mi riguarda io la trovo una fortuna diciamo nel senso che mi sarebbe davvero dispiaciuto vivere a distanza questa situazione vedere i miei amici e i miei parenti costretti a stare in casa persone che magari conosco e che sono state contagiate e sono davvero contenta invece di aver avuto questa coincidenza di essere tornata nel momento giusto per poter vivere condividere con voi questo momento e per poter dare il mio contributo dare il mio contributo vuol dire per esempio dare un esempio per quel che riguarda il rispetto delle norme e magari ecco forse anche questo video può essere un piccolo contributo per cercare di non lasciarci perdere d'animo per affrontare questo periodo al meglio persino sfruttando il bicchiere mezzo pieno cosa che io penso sia sempre la cosa migliore da fare ci vediamo al prossimo video il prossimo nel prossimo video vi racconterò la mia esperienza di cinque giorni di mima digiuno anzi oggi sono al quarto giorno penultimo giorno ho piccola parentesi ho ottime energie non ho assolutamente più nessuna traccia di mal di testa sono ovviamente contenta che dopo domani ricomincio a mangiare normalmente ma comunque è stata una bellissima esperienza nella quale della quale vi parlerò nel prossimo video ciao